Stiamo facendo un flash mob per i tagli della scuola e della riforma legge a prea che hanno tolto 200 milioni di euro per le scuole pubbliche per dargli alle scuole private e poi non abbiamo più soldi per l'istruzione. Allora questa è per la scuola statale? Sì, la vista della manifestazione del 12 ottobre, saremo molto più, facciamo solo un preparativo per quello che ci sarà il 12 ottobre. Grazie a tutti.